Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La famosa Claudia Ruggeri, nota come Miss Claudia di avanti un altro, ha dato alla luce il suo primo figlio. L'annuncio è arrivato sui suoi profili social il 7 ottobre 2024, emozionando i fan con una dolce foto della neonata. Anche se il nome della bimba non è stato ancora rivelato, i follower sono impazienti di scoprirlo. La nascita segna un momento speciale per Claudia, che oltre ad essere una delle protagoniste del quiz di Canale 5, è un modello di discrezione e riservatezza. Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli sono una coppia solida da quasi 20 anni. Si sono conosciuti nel 2006, sposati nel 2016 e ora hanno coronato il loro amore con la nascita della loro prima figlia. Marco, fratello di Sonia Bruganelli, preferisce vivere lontano dai riflettori. Nonostante le critiche per favoritismi, Claudia ha difeso il suo percorso professionale. La gravidanza era stata annunciata a aprile con una foto dell'ecografia. L'arrivo della neonata è stato accolto con entusiasmo dai fan, VIP e familiari. Davide Bonolis ha manifestato l'affetto della famiglia Bonolis per la nuova arrivata. Sonia Bruganelli sarà una zia amorevole. Laura Cremaschi, collega di Claudia davanti un altro, si è detta entusiasta. Paola Caruso, Francesca Brambilla e le Donatella hanno inviato i loro auguri. Claudia ha recentemente conseguito una laurea in scienze e tecniche psicologiche e ora sta proseguendo con una magistrale in psicologia clinica e dinamica. La combinazione di successo professionale e gioia familiare la rende una donna realizzata. La nascita della figlia segna l'inizio di un nuovo capitolo pieno di felicità.